È stato un weekend meraviglioso per tutta una serie di insiemi, fantastico il luogo che è stato scelto, la compagnia e ovviamente le tecniche che sono state molto efficaci nel mio caso. Ho perso un paio di centimetri, non tantissimo, ma penso che più che altro questi giorni siano serviti a sbloccare una serie di blocchi che io avevo, non solo fisici, e quindi questo credo che in maniera totalizzante possa essere un momento di passaggio e di miglioramento per tutto il mio essere. Ritornerai? Assolutamente, ho già prenotato il 23 settembre.